Al via la terza edizione dell'Expo Food & Wine, ospitata alle ciminiere di Catania, tantissime le aziende presenti qui alla manifestazione che vuole premiare quella che è l'eccellenza nel campo del buon cibo e nel campo del buon vino. Sono numerosissime le aziende che sono qui presenti, anche Globus Television con un proprio stand vuole partecipare a questa manifestazione che ha tanto da offrire a chi viene a visitarla in queste tre giornate. L'eccellenza che si affaccia sul territorio? Sì, devo dire che questa è la terza edizione e ogni anno è sempre una sorpresa. Anche quest'anno abbiamo potuto riscontrare anche un aumento da parte degli espositori. Quello che è importante è che vengono promozionati e vengono esposti i prodotti siciliani, questa è la cosa più importante. E su questo l'amministrazione comunale, da me rappresentata in questo momento, ma il Sindaco Bianco in modo particolare, tiene a questo tipo di manifestazione. Ecco perché siamo qua con tutto il supporto possibile che noi possiamo dare a chi si scommette e chi mette la faccia in queste manifestazioni. Eccellente la partecipazione anche di realtà locali. Come la Sostare che ha concesso il parcheggio gratuito proprio nel piazzale Antistante e la Fiera? Sì, ritengo che questa concessione sia un atto dovuto per una manifestazione del genere. Vi è una politica nella città di assoluto contrasto all'abusivismo, quindi inteso come parcheggiatori abusivi. Quindi il fatto che la Sostare che si occupi di mobilità, di parcheggi, conceda uno spazio gratuito per una manifestazione così interessante, ritengo che sia il minimo che un'azienda come la mia possa fare per la città. Buon vino, buon cibo per una manifestazione che abbraccia produttori non solo locali ma che si vuole espandere raccogliendo le eccellenze provenienti anche da oltre lo stretto. Intanto prioritariamente complimenti a chi ha pensato, ideato nel tempo questa manifestazione, l'ha vista crescere e oggi può dire con grande soddisfazione che è un appuntamento a cui guardano tutte le imprese, che guardano le imprese agricole, le imprese dell'agroalimentare, le migliori imprese, le eccellenze dei nostri territori e quindi la qualità delle produzioni legate al territorio, legate alla valorizzazione del nostro ambiente e quindi dall'Etna che ormai è un vulcano di imprese viticole straordinarie, io che 15 anni fa immaginai uno sviluppo della viticoltura in Sicilia e soprattutto sull'Etna, mi pare che l'obiettivo è stato raggiunto. Oggi mettiamo in vetrina, si mette in vetrina il nostro vino, si mette in vetrina la qualità e la produzione e l'eccellenza italiana ma soprattutto si guarda anche ai mercati esteri. Le migliori aziende appunto, i migliori prodotti per la terza edizione di Expo Funded Wine che porta con sé anche tante novità a partire dalla presenza di Andy Luotto e poi tante personalità che comunque partecipano. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo Andy Luotto come nuovo presentatore e poi anche la presenza, intanto ringrazio appunto il sottosegretario per essere oggi qua con noi e per comunque continuare a dare fiducia a chi come me insomma continua a credere nel territorio. Abbiamo tante novità, abbiamo nuove delegazioni estere quest'anno quindi così mi riallaccio al discorso dell'export appunto di cui si parlava e ci sono tantissime attività di cookie show, conveni importanti in cui vengono trattate diverse tematiche partendo anche dalle tecniche di vendita del settore agroalimentare che spesso a volte le aziende manca un po' la parte diciamo essere commerciali a quello che è il futuro appunto proprio dell'agricoltura anche perché cerchiamo di investire insomma sempre di più in questo settore legandolo sempre di più anche al turismo. Io ho capito l'importanza di questa cosa qui quando a Roma ho detto vado a fare ciao mi fai invitare si sta parlando molto di questa cosa l'Italia deve vivere di queste cose qui e di queste persone qui che hanno il coraggio di farlo perché non è una cosa semplice è importante poi che queste cose qui vengono fatte qui nel meridione e in Sicilia la terra più bella del mondo non perché lo sapete voi che è così io sono proprio felice mi dà felicità di stare qui in mezzo a questa gente e i prodotti meravigliosi anzi mette anche un po' timore perché quando uno va a cucinare fuori a Padova beh te la cavi qui non si scherza qui la gente sa e questa la vera sfida è qui a Padova a Padova a Padova a Padova